Stefano Curti il istruttore del corso di guida guida sicura quattro ruote a guida sicura quattro ruote benissimo ASC e che faremo ma sai adesso io ho ricevuto da uno dei miei clienti c'è scritto ciao a tutti ho visto la vostra locandina vorrei fare un regalo a mio figlio e a me iscrivendo lui al corso guida sicura e sottoscritto al corso di fotografia cioè papà e figlio e che partecipano e figlio corso di guida questo è molto interessante ma molto interessante perché io 50 anni no 45 anni che guido così cioè svero è che io prima di avere patente già guidavo e guidavo malissimo nel senso anche io però il primo pensiero dopo il corso che ho fatto se io avessi imparato dal primo istruttore è una guida posizione corretta cosa devi cioè quattro o cinque cose fondamentali da sviluppare mantenere bene e quindi corso di guida Stefano Curti che è bravissimo insegnante non solo sulla strada e è molto bravo a parlare insegnare anche quelle parole quindi allora guarda hai preso hai toccato un argomento molto frequente ieri abbiamo fatto un corso un corso di guida sicura ai privati quindi non alle aziende un po' come quello che faremo che faremo assieme e c'erano tanti partecipanti padre figlio padre e figli o padre figlia e sempre più capita che appunto che i genitori scrivono i figli e poi vengono anch'essi a fare i corsi perché ci tengono alla sicurezza appunto di chi da poco ha preso la patente e dovrà affrontare tutto quello che può capitare per strada ci si rende conto facendo un corso che l'utilizzatore medio di auto non è preparato a nessun tipo di eventualità che può accadere per strada nemmeno una semplice frenata di emergenza statisticamente nessuno è capace di utilizzare al meglio l'ABS ma assolutamente no e cioè e l'abbiamo visto insieme cavolo io ho fatto avrò fatto 20 volte ripetutamente anche 40 sì sì e in effetti normalmente poi sai no cioè non ti capita quasi mai di schiacciare fino in fondo poi quando freni da buon guidatore risparmiatore cerca di frenare piano piano no per non consumare le pastiglie ed è proprio lì che consumi di più le pastiglie oh cavolo si ovalizzano i dischi le frenate lunghe molto morbide autostradali tendono a surriscaldare di più il disco che è una frenata un po' più secca ad ogni modo è meglio spendere 200 euro più in una vita le pastiglie dei freni che non riuscire a spendere e poi questo è come dicevate anche voi dicevi anche tu dopo il corso e rendendomi conto quanto è difficile quanto è anche facile anche manovrare perché se tu sai no però tendenzialmente vai più dentro cioè i genitori che pensano che facendo fare il corso ai figli che diventeranno non so pilota della formula 1 e che hanno paura che andasse più forte è sbagliato cioè più consapevolezza sì e quindi avere più consapevolezza spesso permette di ridurre la velocità dove ci possono essere delle situazioni di non sicurezza tipo bagnato tipo bagnato esatto molta gente va come dei pazzi sul bagnato perché non ha idea di quello che può accadere dopo che hai provato a fare qualche testa a coda o una macchina sul bagnato probabilmente sebbene più pronto e formato a quel tipo di emergenza ma in ogni caso comunque chi comunque riduce la velocità sul bagnato effetti oggi con jeans o un paio di scarpe cioè spendo 150 200 euro ai bambini da 15 anni no e un corso di guida che non riesce neanche a vestire dal capo fino ai no e che servirebbe servirà tutta la vita tutta la vita guarda io lo dico noi in realtà lo diciamo un po tutti i nostri allievi un e non un corso di guida costa meno attualmente oggi costa meno di un paraurto di una macchina di un semplice paraurto di una macchina questo è un paragone fantastico non entriamo poi certo nelle spese degli altri cambi fari, radiatori, scocche, cofani, carrozzeria prendiamo solamente l'idea del paraurto di verniciato oggi la macchina è già fatta apposta per assorbire comunque parte dell'energia dell'urto sì e quindi è normale è facile che diventi una macchina da buttare sì 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 è facile allora io quando vedo 3, 4, 5 macchine tamponate una di filo all'altra in tangenziale magari nella corsa di mezzo penso ok sicuramente non avevano il primo, il secondo, anche il terzo non aveva la distanza di sicurezza cosa che tra l'altro insegniamo c'è una semplice regola a mantenere sicuramente qualcuno durante la frenata poteva con lo sguardo guardare a sinistra a destra e girare tanto così di volante e non tamponare quella davanti certo il problema è che nessuno ha abituato a fare non ha mai provato a fare nessuno o quantomeno chi ha provato l'ha provato in quelle situazioni sulla propria pelle in una situazione di panico che è una situazione che blocca diciamo qualsiasi tipo di ragionamento e fa agire le persone per istinto certo il problema è che noi l'istinto un po' dobbiamo aiutarlo certo dopo 10 volte, 15 volte, 20 volte che io ti faccio evitare un muro d'acqua usando l'ABS quindi utilizzando il 100% della forza dell'impianto frenante istintivamente se ti dovesse capitare e statisticamente succede che chiunque che è uscito dai nostri corsi prenda il volante e lo giri perché non sempre c'è lo spazio di frenata davanti a noi quello che ero sorpreso è che nonostante quella frenata pazzesca la macchina non perde controllo no, è fatto apposta è fatto apposta, è vero è una sensazione pazzesca è un po' come lo stabilizzatore d'immagine negli obiettivi fino ad un certo range funziona certo l'elettronica ha fatto passi da gigante, aiuta tantissimo oggi però anche quella bisogna saperlo usare e in effetti non aveva assolutamente idea di poter dover schiacciare così tanto perché poi dopo aver schiacciato 20-30 volte cioè tutti abbiamo avuto un po' mal di schiena si un pochino, può succedere un po' di allenamento però va bene, adesso che suona Stefano ti ringrazio tantissimo grazie a te